Ma che cazzo capite? Parcheggi, aiutare gli artigiani, i parcheggi, parlando dei parcheggi, eliminare tutti questi parcheggi a pagare, la possibilità a persone di avere un piccolo bono dove potersi parcheggiare e non pagare, per eliminare i parcheggi. Cittadini, fate uno sforzo questa volta, datemi questa possibilità, datemi fiducia e io non vi doverò.